Questo qua è il veicolo che presta servizio ordinario nelle strade nazionali, è adibita specificamente per il trasporto di organi, ha un frigorifero sotto il cofano che contiene esattamente il packaging per trasportare organi, ma anche a bordo del veicolo ci sono altre apparecchiature che consentono ad esempio di contestare infrazioni in tema di velocità. E' arrivata ad Arezzo anche l'ammiraglia della flotta dei veicoli della Polizia di Stato, la Lamborghini Huracan, in esposizione all'Arezzo Classic Motors, nello stand della Polizia di Stato, presente anche quest'anno alla mostra Scambio, in esposizione anche alcune tra le più affascinanti auto che nel tempo hanno vestito la divisa dell'istituzione. Oggi abbiamo in esposizione le nostre auto, le auto storiche e la Lamborghini Nuovo, proprio a significare il passato, la storia, la storia che è quella che ci portiamo dentro, ci dà la spinta per guardare al futuro, appunto la Lamborghini. La Polizia è molto a taglio futurista, guardiamo avanti, quindi cerchiamo sia come formazione professionale, ma anche con dotazione di mezzi, di avere strumentazioni che ci permettano di lavorare meglio e quindi dare un maggior contributo e un maggior servizio a tutti i cittadini. Per lei però è indubbiamente anche un giorno speciale, l'ultimo giorno qua in città? Assolutamente sì, oggi è il mio ultimo giorno di lavoro qui come questore di Arezzo, lascio questa città bellissima, rimarrà sempre nel mio cuore, ho apprezzato sia la città che tutti i cittadini di Arezzo. Spero e credo di aver lasciato anche io qualcosa, di aver quantomeno tracciato una via. Alcune fatti specie di reato sono diminuite sensibilmente, non perché sia venuta meno l'incisività della criminalità della delinquenza predatoria, perché abbiamo messo in campo delle misure sia di contrasto che di prevenzione che hanno fatto in modo e in maniera di ridurre sensibilmente il fenomeno. Se siamo riusciti a dare maggior tranquillità ai cittadini di Arezzo io sono felice.